Hai ragione, quest'anno non ha un sapore amaro questa giornata ma ha un dolce sapore di sollievo, possiamo dirla in questi termini, nel senso che comunque dopo 40 anni, oggi poi il quarantesimo, qualche settimana fa abbiamo ottenuto quella giustizia di cui ricordavamo ormai da così tantissimo tempo. Per cui oggi e da oggi in poi questa giornata ricordarla non sarà più un giorno tragico nella sua facilità ma diventerà un giorno di ricordo sapendo che perlomeno i nostri cari hanno ottenuto giustizia. A questa commemorazione però hanno partecipato, è vero, qualche carica del Comune di Milano ma diciamo che quando è stato cattuato Battisti c'è stato molto più eco, invece in queste giornate si abbassano un po' le luci, cosa ne pensa il merito? Beh no ma lì pazzo, no la cattura di Battisti ovviamente è una notizia mondiale, deve avere il suo rilievo e il suo risalto anche per tutto il trascorso di quello che è stato questo rincorrere per anni e anni un latitante e più volte averlo quasi acciuffato e poi riusciva a scappare. Quello è stato un momento di gloria per qualcuno e di dolore per qualcun altro perché Battisti sicuramente non è che sia stato felice, per noi eravamo felici, io l'ho vissuto nella mia intimità, la mia felicità. Sì è vero, poi un giorno come oggi sicuramente non molti magari non lo sanno oppure non possono venire però non è detto che magari un domani si possa fare una festa, magari qualcosa di più bello per i cittadini che vogliono insieme a me festeggiare un giorno di felicità che potrebbe essere quello di una grande giustizia ridata alle famiglie. L'ultimissima domanda, il giorno dopo appunto la cattura di Cesare Battisti l'aveva ringraziato fortemente le forze dell'ordine ma meno i politici, forse è stato veramente solo Salvini il più vicino in queste settimane o qualcun altro? No, ho ringraziato principalmente le forze dell'ordine, i servizi segreti, l'Interpol perché sono quelli che sono stati sul territorio, hanno fatto il lavoro, i politici hanno l'autorità, il potere ovviamente di emettere determinate azioni. Ma poi chi ci mette la faccia, chi ci mette la pelle sono i poliziotti, sono i carabinieri, sono i servizi segreti, è a loro che bisogna dare il merito di ciò che è stato fatto, per cui è a loro che ho dato principalmente il mio ringraziamento personale.